Il 15 gennaio alle ore 8.55 al numero 54 di via Bernini ha inizio l'operazione Belva. Salvatore Rina esce dal comprensorio residenziale dove si trova la sua villa. Alla guida c'è Salvatore Biondino, viene riconosciuto da Balduccio Di Maggio che si trova con il capitano ultimo nel furgone appostato da giorni davanti all'ingresso del comprensorio da dove aveva già visto uscire la moglie di Rina, Ninetta Bagarella. Voi avete questa balena, la chiamavate balena, che era una specie di camper. La balena è la nostra invisibilità, è l'osservazione nascosta, è il nostro punto di vista. Un furgone bianco? È un furgone e all'interno ci sono operatori nostri che osservano. Ma come era fatto? Eravamo abbastanza artigianali, avevamo questo furgone, all'interno ci avevamo messo il telo dei rifiuti e sembravamo così, dei poveracci con un mezzo scassato che è importante dare questa sensazione. Alla fine questa nostra pochezza di risorse è stata la nostra forza perché siamo sempre ai margini, siamo come dei rifiuti in una scena. Noi siamo andati là e abbiamo fatto le riprese quel giorno, il giorno precedente all'arresto. E avete iniziato il 14 di gennaio, prima dell'arresto, giorno prima hai iniziato a filmare. Sì, perché la procura aveva assegnato i compiti. Questo di maggio cos'è che ha detto di importantissimo? Il fatto che Riina lo seguivano i ganci della noce e i Sansone, uditore passo di rigono, ma soprattutto che il vivandiere di Riina era di Marco Vincenzo. Cioè la cosa più importante che ha detto di maggio è stata questa. Quindi a questo punto tutte le risorse della procura della Repubblica e dell'arma territoriale ovviamente, giustamente, erano state canalizzate sul vivandiere completamente sconosciuto di Riina. E quindi l'arma territoriale aveva avuto l'ordine dalla procura di seguire questo personaggio che era Di Marco Vincenzo. Ma non si trovava, pare. La mattina il collega del nucleo operativo Balsamo mi dice guarda Di Marco è uscito la mattina di casa perché Di Maggio aveva indicato esattamente chi era la persona, cioè non ha fatto niente, si è messo la coppola e sul trattore si è messo a coltivare il campo. Dico, beato lui, dico, si vede che ama la terra. E la sera guardavamo i filmati e io alle 10 mi ricordo la scena, guardo Oscar, guardo Viking, guardo Ombra, vedo questi ragazzi distrutti, che lavoravano giorno e notte, attenti a tutti i fotogrammi del filmato e mi viene in mente, dico, ma dov'è Di Maggio? Perché noi stiamo qua con la solita lattina di Coca-Cola, con il pezzo di pizza appoggiato su mobili di seconda mano? E dico, no, Di Maggio quello deve finire qua, ci aiuterà a vedere i filmati, perché lui deve stare tranquillo in un letto e noi qua con i quattro disperati? E allora gli dico, no, ho chiamato la territoriale e gli ho detto, scusate, portate Di Maggio che ci aiuta a vedere i filmati. Guarda i filmati, a un certo punto dice, questo è Di Marco Vincenzo, con la Golf. E io dico, ma come? Stamattina il collega mi ha detto che era andato in campagna con la coppola e il trattore e invece esce da questa casa. Questa è Ninetta Bagarella, questa è Lucia Rina, questo è l'altro figlio di Rina. Quindi noi abbiamo capito che in quella via Berdini 54, noi vedevamo un cancello a verde. Dentro c'erano diverse ville ma noi non sapevamo come era, dentro non c'eravamo mai andati. E quindi a questo punto per noi diventa importante, il giorno dopo io chiedo ancora che Di Maggio venisse con noi nella balena a osservare le persone che entravano e uscivano da questo civico e ci prepariamo per vedere se da questa casa la moglie o Di Marco sarebbero andati a raggiungere Rina. Ci siamo organizzati così. La mattina mettiamo il dispositivo e stiamo su via regione siciliana, ci disperdiamo in un raggio di 3-4 km, stiamo larghi perché l'invisibilità è tutto. La lotta non c'è se non c'è l'invisibilità, è un'altra cosa, è una celebrazione, una manifestazione, ma la lotta è ombra contro ombra e tu devi rimanere ombra se vuoi vivere e se vuoi vincere. Quindi stiamo là, io sto con Vichingo, vedo sempre dalle posizioni il dispositivo e lo tengo larghissimo e a un certo punto ci viene come una stanchezza e sento il tempo che diventa, lo tocchi quasi il tempo quando hai l'attesa e sei in tensione. E a un certo punto, ombra dice attenzione, è entrato Biondolillo, che invece era Biondino Salvatore, il killer del capitano D'Aleo, il regista delle straci. E dopo due minuti, attenzione, attenzione, sta uscendo il nostro amico Sbirulino, che era il nome in codice con cui nascondevamo, no? Per non farci intercettare via radio, Rihino. Lo seguiamo, facciamo un percorso obbligato, il dispositivo unito, ci concentriamo, due macchine davanti, tre macchine dietro, siamo davanti al semaforo di via regione siciliana, al Montelaci, e a quel punto il semaforo è rosso, ok, lo prendiamo, scendiamo, io e Vichingo prendiamo Rihina, lato passeggeri, Asher e Omar prendono Biondino, lato guida, Freccia recupera la macchina, praticamente un sequestro. Buongiorno, un duro colpo per la mafia, l'arresto compiuto questa mattina dai crabinieri a Palermo di Totò Rihina, il numero uno di Cosa Nostra. Era tranquillamente a bordo di un'auto insieme ad un'altra persona, Rihina, quando è stato bloccato. Latitante da oltre vent'anni, c'era sempre stato sospetto che vivesse comunque a Palermo. L'impatto, era l'uomo, era il capo della mafia, era l'uomo più ricercato d'Italia, e non solo. Quegli attimi quando lei apre la portiera, mi racconta quegli istanti, che sono gli istanti che rimarranno per sempre nella storia? Sono attimi, sono la forza dei carabinieri, la forza di una battaglia, la forza di un dispositivo che è unito, due fanno un'azione, il tempo lo vedi come in un film, sei deciso, sei tranquillo perché sei con i tuoi uomini, sai che hai vinto, loro non si sono accorti di niente, hai vinto, sei forte, hai la forza dentro di te, sei tranquillo. Vede la forza, vede la forza, e lui vede la sua fragilità, vede la paura, e ha paura, e inizia a dire chi siete, chi siete, chi siete, e poi dice sto male, sto male, sto male, e non è bello, no? E vedi che è un perdente, uno sconfitto. Ma ha detto, ha dichiarato chiero, ha cercato di negare la sua identità? Se quello aveva paura di morire, allora, è brutto parlare di chi ha perso, vanno rispettati i perdenti. Quello aveva il terrore di morire, e si è comportato come uno terrorizzato dalla morte. Grazie a tutti.